Lunedì da incubo per la borsa italiana. Dopo aver ceduto il 3,5% venerdì scorso, oggi l'FTS e Mib sta facendo segnare il peggior calo dal 2016, ossia dopo il referendum sulla Brexit. Il principale paniere di piazza affari sta infatti perdendo il 10,63%, attestandosi ampiamente sotto la soglia dei 19.000 punti e quindi ai minimi da dicembre 2018. Questo, tra l'altro, dopo che era arrivato a cedere più dell'11% nella prima ora di contrattazioni. Le disposizioni di urgenza contenute nel nuovo decreto ministeriale, firmato nella notte tra il 7 e l'8 marzo, oltre ad avere steso la zona rossa a tutta la Lombardia e ad altre 11 province, ha dato un'ulteriore mazzata alla borsa italiana che non riesce dunque a risollevarsi dopo i continui cali dettati dai timori per il coronavirus. Timori che tra l'altro nella giornata di ieri avevano portato a una riflessione ben precisa, non è meglio chiudere le contrattazioni in borsa italiana? Invito lanciato da Tamburi Investment Partners, l'investment e merchant bank che fa capo all'omonimo banchiere Giovanni Tamburi, e sostenuto da altri personaggi della finanza oltre che da parte della politica. In molti hanno chiesto lo stop delle contrattazioni a piazza affari, ma la di. Di borsa italiana Raffaele Ierosalmi è stato categorico nelle sue dichiarazioni rilasciate all'ANSA, c'è un panico ingiustificato. Borsa italiana ha un business continuity plan. Non c'è motivo di aspettarsi che gli scambi non continuino come al solito e il mercato italiano è già sceso in proporzione all'impatto del virus. Da segnalare anche che lo spread decennale BTP Bund è schizzato a 222,1 punti base, dopo aver toccato quota 230 punti, contro i 178 della settimana scorsa.